Sono Stefano Govoni, titolare della ditta ESPI Engineering, da 4 mesi nuovo agente per l'Italia del settore gru cingolate della Senebogen, fabbrica tedesca di gru cingolate a traliccio, telescopiche e per lavori pesanti. Presentiamo la 640E della Senebogen prima mondiale, prima per l'Italia, prima volta il Geofluid della Senebogen come espositore. La macchina corrisponde a tutte le nuove normative per le emissioni Tier 4 Final e sicurezza per tutte le nuove normative CE. Per qualsiasi informazione tecnica di tutta la gamma potete consultare il nostro sito www.espsrl.com o il sito direttamente della Senebogen www.senebogen.di